Questa notte, sai chi toglie la dignità, la politica di questa ragione? Il sindaco di Brescello, del Partito Democratico, dove tu sei segretario regionale che definisce un boss dell'Andrangheta, perché lì comanda l'Andrangheta, il boss mafioso Grandanacri, e lo definisce una brava persona e una persona elegante. Vorrei sapere perché non hai preso le distanze dalle dichiarazioni di Coffrini. Ah, colpo. Questa è vergogna. Io non solo ho preso le distanze, non solo ho preso le distanze, caro Alan, e racconta la giusta e non prendere in giro gli elettori. Io ho detto al sindaco di Brescello, io ho detto al sindaco di Brescello che se non avesse chiesto scusa alla sua comunità avrebbe dovuto dimettersi e l'ha fatto. Dopodiché io questa sera da Bologna, sai come ho aperto la serata di chiusura di campagna elettorale? Io questa sera ho detto che la lotta all'illegalità e la lotta contro le mafie sarà una dei tre capisaldi dei prossimi cinque anni. E sai a chi abbiamo mandato un abbraccio dal palazzetto di Bologna insieme a 3.000 persone, Matteo Renzi? A Giovanni Tiziano, un giornalista della mia terra. Abbiamo mandato un abbraccio a Giovanni Tiziano, un giornalista della mia terra che vive a Roma, che ha avuto già vicende drammatiche nella propria famiglia e che è andato l'altro giorno a fare un processo perché è coinvolto in cose abbastanza incredibili e molto complicate perché denuncia tutti i giorni coloro che fanno della mafia e dell'andranghita una ragione di vita, ahimè. Io non so nemmeno per chi vota Giovanni Tiziano, ma gli abbiamo mandato la solidarietà e l'affetto di tutto il popolo democratico perché per noi la lotta alle mafie è uno dei capisaldi del nostro essere persone per bene e civili. Volevo chiedere ad Alan Fabri una cosa. Se vincesse lui, che cosa accadrebbe in Emilia-Romagna? Una classe dirigente nuova o preparato a governare, pensa di poter sostituire comunque l'esempio e la tradizione dell'amministrazione rossa in Emilia-Romagna? Beh, intanto vorrei dire che se andiamo a votare domenica, cioè il 23 novembre, dalle 7 alle 23, non è perché è una tradizione emiliano-romagnola votare un mese prima di Natale, ma perché l'ex governatore della regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, è stato condannato per falso ideologico. Detto questo noi vogliamo cercare di cambiare questa regione che si è un po' incancrenita, a mio avviso, specialmente negli ultimi anni, in un sistema che non dà dignità ai cittadini emiliano-romagnoli. Faccio un esempio. Ieri abbiamo fatto un question time come gruppo parlamentare alla Camera in cui chiedevamo al governo di impegnarsi per l'esenzione fiscale delle terre alluvionate di questa regione e per bloccare le cartelle esattoriali che stanno arrivando agli artigiani, agli agricoltori, ai commercianti che sono stati colpiti dal terremoto e anche dall'alluvione. Il ministro Padovan ha risposto che è una cosa che non è possibile, però lo stesso governo oggi ha finanziato la social card per i cittadini extracomunitari di tutta Italia. Questo è il concetto base che io effettivamente non riesco a capire. La nuova politica dell'Emilia-Romagna dovrà essere incentrata su quello che è il cittadino emiliano-romagnolo storico che attraverso il suo lavoro, attraverso la sua onestà ha creato e costruito lo stato sociale che noi vogliamo amministrare.